Il mondo della scuola scende in piazza proprio il giorno prima della chiusura dell'anno scolastico. Questa protesta è soprattutto per manifestare malcontento sul decreto sostegni bis del governo? Certo, per due motivi. Una di metodo, era stato appena firmato il patto per la scuola, quindi l'intento di lavorare insieme, dialogando per trovare le soluzioni ai tanti problemi della scuola. Nel frattempo veniva firmato un decreto, quindi in maniera unilaterale venivano assunte delle decisioni che noi non condividiamo. Quindi nel metodo. Nel merito appunto le soluzioni che vengono previste dal governo non ci soddisfano, soprattutto per quello che riguardano le soluzioni proposte per il precariato, quindi un sistema di assunzioni che deve rispondere rapidamente al problema e non mi sembra che le scelte che ha operato il governo portano in questo senso. Con questi precari che succede? Che ogni anno tu a settembre nomini a livello nazionale decine di migliaia di persone che l'anno successivo molto probabilmente non riprenderanno lo stesso posto, anche se magari lavoreranno pure. Ma questo significa uno scollamento tra i ragazzi che devono vedersi ruotare gli insegnanti e per quelli che sono precari una battaglia infinita, cioè perché ogni anno devono ricominciare da capo. Allora noi diciamo, ma scusate, chi sul campo ha un titolo di studio, ha fatto almeno tre anni, facciamo un'operazione straordinaria di immissioni in ruolo. Noi il 20 maggio avevamo stretto un accordo con il Presidente del Consiglio che aveva delegato il Ministro dell'Istruzione. In questo accordo c'era stabilizzazione per i precari, potenziamento degli organici, investimenti sui settori della conoscenza per i rinnovi contrattuali. Bisogna cominciare dal primo punto e già ad oggi vediamo che questi impegni non vengono rispettati. Subito dopo infatti è stato emanato un decreto che non va nella direzione da noi auspicata. Il risultato qual è? È che a settembre, se non cambiano subito le cose, la scuola abruzzese rischierà di avere un'altra volta 6.000 precari e avere un organico con così tanti precari rischia sicuramente di non dare quella stabilità, quella continuità per l'offerta formativa, con corsi da fare immediatamente, con procedure snelle che possono garantire una stabilizzazione ai lavoratori che da anni sono nelle scuole. Hanno proposto di fare dei concorsi per chi ha i tre anni di servizio, questo anche in linea con le politiche europee che prevedono sanzioni quando vengono reiterati per più di tre anni contratti a tempo determinato. Abbiamo parlato di stabilizzare quegli stessi docenti, quel personale che comunque viene a lavorare ogni anno che fa partire le nostre scuole e che le chiude. Quindi non si trattava di sanatoria ma di dare dignità al loro lavoro. Noi siamo qui anche e soprattutto affinché si possano utilizzare le GPS, dei gradatori provinciali per le supplenze, per le emissioni in ruole. Quindi ripristino nel doppio canale di reclutamento. La scuola italiana ha bisogno di insegnanti in cattedra già dall'inizio di settembre, ha bisogno di classiche con un numero di alunni inferiore alle 15 unità, ha bisogno di continuità di continuità didattica e ha bisogno che chi è stato assunto fuori regione possa avere quantomeno la speranza nel breve periodo di tornare a casa dai propri familiari. Grazie.